Sare una professoressa tedesca di diritto pubblico. 54 anni. G. Membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, nominata da Benedetto XVI. Bavarese come lei, a presiedere l'udienza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani che domani. Discutere il ricorso di Silvio Berlusconi contro la decadenza da senatore. Angelica Anusberger, componente della CEDU dal 2011, sostituisce il giudice italiano Guido Raimondi, che avrebbe dovuto guidare il collegio ma ha deciso di astenersi, probabilmente per motivi di opportunità, poiché a suo tempo fu selezionato in una terna di candidati proposta dal governo Berlusconi. Il suo posto, per il dibattimento di domani, s'ha preso dalla professoressa Ida Caracciolo, ordinario di diritto internazionale a Napoli. Oltre alle Presidente Nusberger e alla giudice Caracciolo. La Grande Camera conta altri 15 componenti. In rappresentanza di altrettanti paesi europei. Dalla Grecia alla Macedonia. Passando per Svezia, Montenegro e altri ancora. Tra le nazioni non rappresentate ci sono le vicine Spagna e Francia. Sono loro che dovranno stabilire selestro missione del fondatore di Forza Italia dal Parlamento. Sancita quattro anni fa dal Senato sulla base del decreto varato dal governo Monti in applicazione della cosiddetta legge Severino, abbia violato oppure no almeno tre principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il retroattivite delle sanzioni punitive, proportionalit, diritto a un giudice imparziale. Quei 17 giudici hanno il giletto e studiato le memorie e le contromemorie scritte. Con gli argomenti dei ricorrenti che contestano la decisione del Senato e quelle del governo italiano che invece la difende. Non c'è il parere della Commissione di Venezia a sostegno della legittimite della norma e della procedura italiana. Il parere contrario dell'ex presidente della CEDU Jean-Paul Costa. Presentato dall'Associazione Radicale Marco Pannella. Stato invece escluso dagli atti. Alle 9.15 di domani comincia l'esposizione orale. Mezz'ora di tempo per ciascuna parte. Che dovranno dividersi da un lato i tre avvocati di Berlusconi. Andrea Saccucci. Bruno Nascimben e l'inglese Edward Fitzgerald. E dall'altro gli agenti del governo. I magistrati Maria Giuliana Civinini e Paola Cardo. Poi ogni giudice poter chiedere chiarimenti ai rappresentanti dei due schieramenti. I quali al termine di una breve interruzione risponderanno avendo a disposizione. Sia gli uni che gli altri. Dieci minuti. In previsione di eventuali domande sulla condanna di Berlusconi a quattro anni di carcere e per frode. Fiscale. Da cui scaturita l'estromissione dal Parlamento. La formazione dei difensori dell'ex premier comprende anche Franco Coppi e Nicol Ghedini. Che hanno seguito i processi. Dopo quest'ultimo passaggio. La presidente Nusberger dichiara chiusa la discussione e la corte si ritirerà in camera di. Consiglio. Che si svolgerà. Abbi riprese. Per un tempo indeterminato. Tanto sono prefissati e rigorosamente contingentati i tempi dell'udienza. Infatti. Tanto sono indefiniti e alleatori quelli necessari per il verdetto. Mediamente i giudici di Strasburgo impiegano nove mesi. Ma per le questioni pi controverse e delicate possono impiegare pi di un anno e oltre. Si dice che Berlusconi auspichi la sentenza a breve. E per questo vorrebbe che la scadenza elettorale in Italia slittassi al termine ultimo di maggio. Sul presupposto che il suo ricorso venga accolto. Nessuno per in grado di confermare questa previsione. E in ogni caso per farlo tornare eleggibile ci vorrebbe l'ulteriore pronuncia di un giudice italiano. Ma considerata l'imprevedibilite dell'esito. Anche una non decisione prima del voto potrebbe tornare gli utile. Resterebbe incandidabile. Ma ci non gli impedirebbe di poter denunciare. Nella campagna elettorale. Una presunta violazione dei propri diritti. Al contrario di una sentenza a lui sfavorevole. Altro su MSN. Corte di Strasburgo. Alla grande camera il ricorso di Berlusconi sulla Severino. Mediast. Offerta a giochi XBOX. Forza Horizon. Halo. Forza Motorsport. E tantissimi altri giochi scontati fino all'80%. Accedi qui all'offerta maggiore maggiore.